se magna regà se magna se magna sempre sto camper porca miseria quando vado a dormire in manzarda sento sapore di aglio se deve esser friccicata tutta la pezzeria porco due anvedi che roba o anvedi anvedi e stica stica mangiamo che ce frega mangiamo a romolo c'è stata la gatta che sta a fare a marta la mattina gli ho cambiato la sabbia amore che sta a combina a bella a butta tutta delato anvedi questa sta a giocare sta a giocare la sabbia pulita ti piace la sabbia non la puoi mangiare ed ecco risultato finito ceci schiacciati con pezzettoni di aglio tutto l'aglio che avete visto prima con un po di sugo all'interno olio curcuma e peperoncino buonissimo vedete le due candele siamo io e la mia dolce metà perché la mia dolce metà c'è sentiamo tante volte al giorno e chiamiamo più di prima chissà forse l'universo ci ha voluti mettere un'altra volta alla prova so che questa ceciata diciamo è un po la bad spencer a me piacciono molti i devumi hanno tante cose buone all'interno è vero che l'aglio sarebbe stato meglio mangiarlo crudo ma tante volte non si sopporta a me mi sembra che se ne stia bella tranquilla quando viaggiamo capita che devo chiederla in bagno ma la metto dentro il lavandino che è grandissimo è enorme qua sotto un bel asciugamano asciutto la metto lì e se a me si mette lì dei dorme tranquilla spesso quando faccio spostamenti di pochi chilometri la lasciamo in mansarda perché lei non è tanto contenta di andare in bagno però per la nostra sicurezza penso che sia meglio metterla in bagno la prima cosa che faccio quando mi parcheggio do in bagno la cocco e la libero siamo in viaggio ragazzi siamo in viaggio ciao buona giornata ragazzi bella regà iscrivetevi al camper job non solo l'ormonezza ma mi hanno detto che in questa foto ci assomiglio che me frega buona giornata buona giornata